Un gioiello restituito alla città. È Cappella Pignatelli, la chiesetta di origini trecentesche fondata dalla famiglia Pignatelli tra il 1493 e il 1515. Il declino della struttura inizia a metà del Novecento, quando il complesso viene chiuso al culto e alle visite. La rinascita invece arriva solo negli anni 90, quando la cappella viene donata all'Università su Rursola Benincasa, allo scopo di restituire la fruizione di tutti. Ma ascoltiamo il Rettore dell'Università su Rursola Benincasa, Lucio D'Alessandro. I lavori sono finiti, la cappella è in corso di completamento perché stiamo recuperando i preziosissimi marmi che sono attualmente in deposito presso il Museo di Capodimonte, che sono opera di un grande allievo spagnolo di Michelangelo, uno dei più grandi scultori spagnoli, transitato in quegli anni per questa città. Noi pensiamo di fare una grande valorizzazione, una grande apertura di questa cappella che testimonia la storia della città. Il restauro è stato possibile grazie al progetto Centro Storico di Napoli, sito Unesco, che restituisce alla città un tesoro architettonico e pittorico di rara bellezza. Luigi De Magistris. Le inaugurazioni vengono una dietro l'altra, a gennaio cominciano anche i primi lavori delle strade del Centro Storico Unesco e quindi tutto procede secondo cronoprogramma. Qui è straordinario oggi perché si restituisce alla città soprattutto una parte che era stata dimenticata, che era chiusa ormai da tantissimi anni, qua nel largo corpo di Napoli dopo l'inaugurazione recente di la piazzetta che era stata recuperata e quindi siamo contenti che Napoli sempre di più restituisce alla città, agli abitanti, ai turisti le sue ricchezze, i suoi valori, con un lavoro di squadra, ci tengo a sottolineare perché con la squadra si lavora bene.